Allora ci siamo. Allora ci siamo. La scuola per creare nuovi appassionati di questo settore ed è curato da mia moglie che è qui presente. Scusate due battute, intanto ne approfitto Giovanni. Salve! 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 Grazie Sì, 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 sono Ciao Guarda, guarda Eh, tardi, tardi Siete solo, no? No, no, c'è mia moglie No, lei corre È partita Oh, mia moglie Buongiorno 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 Grazie